Oggi siamo ovviamente per una audizione di ballerini e ballerine per Laudate Si Francesco che è ovviamente una commedia musicale, quindi commedia musicale non un musical perché chiaramente ci stiamo ispirando a quello che è il significato importante di salvaguardare l'ambiente attraverso la parola di Papa Francesco. Non è un aspetto religioso ma è un aspetto molto allargato, laico, il massimo laico perché l'ambiente, quindi l'acqua, il fuoco, l'aria e la terra sono elementi importanti che non hanno né religioni né ovviamente altri significati se non quello di salvaguardare noi stessi e il nostro futuro, pensando comunque che San Francesco nel 1200 già parlava di salvare la terra, quindi pensate un po' quanto siamo stati testardi su quello che è il significato ovviamente della salvaguardia dell'ambiente per il futuro dei nostri figli, futuro nostro ma anche dei nostri figli e delle altre generazioni. Quindi un'audizione per ballerini che completeranno chiaramente la parte ovviamente del testo scritto che ovviamente io mi sono impegnato a cercare di realizzare ovviamente per dare uno spettacolo che sia lo spettacolo più adatto che abbia un grande significato dove la parola di Francesco e di San Francesco siano elementi essenziali affinché noi tutti possiamo capire cosa dobbiamo salvare, cioè noi stessi.